musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia nel video di oggi si parlerà di alcuni aggiornamenti incredibili scoperti sia dai dataminer che rivelati direttamente da Epic Games per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite i prossimi giorni e vi parlo veramente di massimo una manciata di giorni oggi ragazzi vedremo finalmente i tanto annunciati tornei ne avevamo già parlato un po' di tempo fa oggi qualcosa è stato scoperto e ragazzi vi mostrerò anche una clip scovata da uno dei dataminer più influenti in questi giorni sul web che ci parla appunto finalmente dell'arrivo dei regali quindi ragazzi mi raccomando se vi piace questo video un bel pollicione in su e soprattutto attivate la campanella e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento di Fortnite vi faccio subito una domanda ragazzi prima che vi lascio al video e la domanda è voi preferite la skin testa di zucca quella che è uscita ieri o altrimenti la customizzazione di Joe Week quindi l'altra skin con la zucca quella con il completo con disegnate le zucche mi raccomando fatemelo sapere qui sotto e se avete scioppato la testa di zucca scrivetemelo nei commenti che voglio proprio saperlo quindi ragazzi non ci fermiamo cominciamo e parliamo subito dei regali finalmente ragazzi la possibilità di regalare oggetti ai nostri amici è realtà e prima di parlarne vi lascio ad una clip che è veramente molto molto interessante come avete appena visto ragazzi la adesso riguardiamo in pezzi come vedete ovviamente lui non poteva mandare regali perché non è ancora abilitata la funzione questa è la sezione dedicata nel nostro gioco ai regali e come vedete infatti guardate il prezzo dei VVAC dell'emote behold quella che è uscita un paio di giorni fa zero vuol dire ragazzi che la sta per regalare e come vedete ragazzi abbiamo i due tasti purchase che dovrebbe essere acquista tra virgolette e buy as a gift quindi è compra per regalare quindi ragazzi incredibile incredibile e come andiamo a vedere ragazzi fatemi beccare il frame giusto nella seconda parte eccolo qua noi abbiamo un menu dove potremmo scegliere i nostri amici a cui regalare non si sa se anche gli oggetti o solo le emot probabilmente anche ovviamente gli oggetti e come vedete il primo penso che sia il nome di lui stesso non so bene perché ma dice jar intend treat yourself quindi penso fatti un regalo quindi potrebbe anche essere ragazzi che appena uscirà la funzione un oggetto nello shop magari ci verrà regalato non lo so non lo so e come vedete poi seguendo appunto le linee lui dice 400 che è il nome per dire del suo amico this friend can receive gift in 8 more days vuol dire ragazzi che la possibilità di inviare i regali ai nostri amici è limitata in un tot di giorni ovviamente è giusto che sia anche così probabilmente ogni 10 giorni indicativamente potremmo regalare un oggetto a un nostro amico ed è una figata ragazzi soprattutto per chi non può shoppare potrebbe ricevere dei regali appunto dagli amici come vedete addirittura Abdurrahman 107 quindi la terza riga che stiamo andando a vedere dice questo amico può ricevere regali in 9 giorni quindi ragazzi finalmente la funzione di avere i regali è realtà probabilmente arriverà veramente in una manciata di giorni perché è tutto pronto sono sicuro però che devono veramente stare attenti a quando la rilasceranno per evitare come al solito enormi gaff o altrimenti attacchi da parte dei non chiamiamoli hacker però di gente che troverà magari qualche scamotage per glitchare anche questa funzionalità ma ragazzi un'altra notizia è veramente incredibile e la sappiamo in super anteprima ragazzi sappiamo che stanno per arrivare dei tornei su fortnite ne avevamo già parlato un po' di giorni fa anche perché avevamo detto che fortnite si è resa conto che Epic Games si è resa conto che durante il Summer Skirmish che è in realtà il primo grande torneo organizzato su invito per tutti i giocatori di fortnite era un evento che sebbene avesse dei buoni propositi era molto limitato perché c'erano veramente persone assurde quindi ragazzi guardate un pochettino Epic Games ha deciso di rilasciare in determinate giornate dei mini tornei che non si sa bene a che cosa serviranno ma sappiamo che ci sono e quindi vi faccio vedere qua ragazzi questo ragazzi è il primo il tournament numero 1 il Tomato Temple si giocherà in duo e dice cerca di fare uno score di almeno 6 punti o di più in ogni match eliminando i nemici e sopravvivendo contro loro stessi ovviamente cerca di fare almeno 20 punti in una sessione per ottenere un shiny pin potrebbe essere un gettone di invito e c'è anche una data ragazzi sembrerebbe che inizi il 28 ottobre e termini il primo novembre veniva accompagnata questa immagine da quest'altra immagine che è appunto l'icona di riconoscimento del torneo dove vediamo appunto i due il pomodoro e la tizia che in realtà è la controparte femminile del pomodoro che a me personalmente non gasa torneo numero 2 ragazzi la Salty Spring Cup anche questo ragazzi invece si giocherà in solo e ci dice lo stesso di prima cioè fare 6 punti almeno per eliminando gli nemici ma se facciamo almeno 20 punti potremmo ottenere un altro gettone che sicuramente probabilmente sommato con tutti quelli che otterremo in questi giorni in cui ci saranno vari tornei troveranno e daranno i partecipanti al mega torneo di Fortnite inizierà ragazzi il 27 ottobre ed è accompagnato dall'immagine del nostro Rex una delle skin più interessanti che dovremmo che dovranno avere delle modifiche in questa season 6 avanti ancora ragazzi il tournament numero 3 il Friday Night Fortnite anche qua ragazzi si giocherà a squadre quindi attenzione non è in solo e non è in duo e il cambiamento che c'è è che dovremmo ottenere almeno 25 punti per ottenere un gettone è un torneo che si farà ogni venerdì ragazzi ed è accompagnato dall'immagine che state vedendo proseguiamo ancora ragazzi con il torneo numero 4 il beta daily trials si giocherà in duo ragazzi e qua dice prendi un amico e portalo nel mondo cioè nella mappa di Fortnite finché voi non sarete gli ultimi due rimasti ci saranno tre giorni di fila per fare queste competizioni in duo quindi ragazzi è una figata inizierà lo Q23 ottobre e terminerà il 25 ottobre quindi cercatevi un bel compagno di squadra è arrivata alla fine per ottenere il gettone andava accompagnato con questa immagine ma il più interessante ragazzi l'ultimo torneo l'Alpha Daily Trials anche questo si giocherà probabilmente in solo e dice partecipa al primo torneo ufficiale cerca di giocartela il meglio che puoi per ottenere diversi gettoni per ottenere un gettone e ragazzi inizierà il 16 ottobre quindi porca miseria fatemi vedere domani domani sembra che inizi qualcosa noi non sappiamo ragazzi se queste date sono ufficiali però ragazzi sono molto molto precise quindi potrebbe succedere già domani beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su di iscrivervi in tantissimi al canale e di passare in live noi ci vediamo presto ciao 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 ciao